Sanzioni più serate per chi parla o chatta al telefono mentre sta guidando. In caso di recidiva nel biennio, oltre alla sospensione della patente da 1 a 3 mesi già prevista dal codice vigente, si prevede il pagamento di una somma di 644 euro fino ad arrivare a 2.588. Arriva inoltre l'alcol lock che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore a 0. E' stato approvato nella giornata di ieri lunedì 18 settembre dal tavolo del Consiglio dei Ministri il provvedimento che riscrive alcune regole del codice della strada e lo aggiorna. Martedì 27 giugno il governo aveva approvato un testo di partenza. Il testo che torna in Consiglio dei Ministri dopo il passaggio in conferenza unificata a Stato e Regioni è ora definitivo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato infatti il testo del DDL della legge delega per le modifiche al codice della strada e nuove norme sulla sicurezza stradale con una stretta sui Giatovelox selvaggi e linea dura per i recidivi. Lo comunica il Ministro dei Trasporti. Il pacchetto già presentato a giugno e fortemente voluto dal Vicepremiere e Ministro Matteo Salvini è passato al vaio della conferenza unificata. Quanto agli autovelox su richiesta dei sindaci si propone un incremento della sanzione amministrativa pecunaria fino a 1.084 euro e la sospensione della patente di guida. Le nuove norme sulla sicurezza stradale propongono per l'uso dei cellulari alla guida l'inaspiramento della sanzione pecunaria. Previsto poi il divieto assoluto di assumere alcolici per i conducenti e l'obbligo per chi è stato colto a guidare stato di ebrezza di installare il cosiddetto alcol lock che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore allo zero. Arriva poi una nuova stretta sui neopotentati per portare da 1 a 3 anni il divieto di guida di auto potenti ma già ora nei confronti dei giovani che hanno preso da poco il documento di guida esistono alcune norme che fissano limiti e velocità differenziate. Nella legge delega per le modifiche al codice della strada e nuove norme sulla sicurezza aumenteranno le sanzioni pecunare in caso di sosta nei posti delicati e disabili. Novità per finire anche sui monopattini. Quelli privati dovranno infatti avere un codice che li identifichi e l'assicurazione. Chi li utilizza dunque dovrà farlo indossando il casco. Arrivano sanzioni per la sosta selvaggia.